Il mio esordio è stato nel 2010 colorando 10 pagine disegnate da Dimitri Armand, che è un disegnatore francese, per un editore che si chiama Soleil. È stata pubblicata su una rivista francese, è stato un lavoro che è venuto un po' per caso, un po' per gioco, perché comunque ho iniziato come disegnatore e mi sono trovato a fare il colorista. Allora, l'ultimo lavoro che ho fatto è stato come colorista, ho colorato l'albo di Tex che si chiama Giustizia Corpus Christi, disegnato da Corrado Mastantono, edito da Sergio Bonelli, editore, uscito in edicola di recente. È stato un cartonato di 46 pagine e della collana Tex, Romanzi e Fumetti. Nello stato attuale sto lavorando, sempre come colorista, su Creepy Pest, che è una nuova serie di Sergio Bonelli, editore, e uscirà adesso in primavera in tutte le edicole. Sto colorando il terzo numero. Contemporaneamente sto colorando anche il Dilan Dog Color Fest, che uscirà in estate, sempre a tema Creepy Pest, e contemporaneamente sto colorando un altro cartonato di Tex, Romanzi d'Aulore.